buongiorno e benvenuti sul canale Sfera di Luce io sono Sylvie e oggi vorrei accompagnarvi in un viaggio un viaggio pieno di luce, pace, amore e rilassamento dentro di voi prendete il tempo per trovare una posizione comoda seduta con i piedi per terra, appoggiati per terra dove la vostra schiena è ben allineata alla vostra testa e al collo e le vostre mani appoggiano gentilmente sulle vostre gambe chiudete gli occhi prendete il tempo di sistemarvi comodamente questo tempo è solo per voi prendete coscienza della vostra respirazione e sentite il soffio dentro di voi entrare piano piano, dolcemente sentite il calore che emane dentro di voi ascoltate il vostro corpo ascoltate il vostro corpo che entra dentro il vostro corpo osservate questi raggi luminosi e la vostra mente che illumina il vostro corpo e la vostra mente respirate in piena coscienza e sentite come l'aria entrando la vostra corpo è molto fresca e fluida mentre respirando il soffio è più caldo leggermente più caldo l'aria è fluida dentro di voi e libera morbida come il vostro corpo è tutto sembra tutto intorno a me come un leggero vapore che mi circonda sento il tessuto sotto le mie mani e nell'aria sento la musica che inanda la stanza forse sentirete alcuni rumori lontani accoglieteli e forse nell'aria sentirete alcuni odori o profumi accoglieteli sentite i punti di appoggio nei vostri piedi nel punto in cui siete seduti e se alcuni pensieri passano accoglieteli anche essi e poi lasciateli passare come nuvole rose prendete coscienza dell'appoggio dei vostri piedi come nel suolo e sentite crescere sotto la pianta dei vostri piedi e sentite crescere sotto la pianta dei vostri piedi delle radici che entrano dentro il suono e che si fanno strada fino ad un punto sempre più profondo fino ad arrivare al nucleo della terra della madre terra visualizzate queste radici profonde e sempre più spesse che si riempiono di energia che si riempiono di energia della terra per mescolarsi alla vostra energia sono sempre più profonde e danno al vostro corpo una forza è un'energia è un'energia di quell'energia di cui avete bisogno oggi lasciate tutti i pensieri di ieri e lasciate anche i pensieri di domani siate coscienti di questo momento del momento presente perché voi adesso siete solo qui qui e ora e ciò che è importante è qui e ora siate consapevoli di questo unico momento che vi state dedicando e lasciate che tutto il resto sia per un altro momento presente da godere e da trascorrere sentite ogni emozione di questo preciso momento come vi sentite rilassati vi sentite fluidi come il vostro respiro e come l'aria che entra e che esce dalle vostre narici e come la luce dentro di voi è chiara morbida silenziosa oppure si muove oppure bianca con alcuni riflessi dorati oppure viola lasciate che lasciate che colori il vostro corpo la vostra anima e il centro del vostro cuore sentite come l'energia delle vostre radici si muove si muove dentro di voi entrando dalla pianta dei vostri piedi e lungo le vostre gambe si muove fino al vostro bacino fino alla punta delle vostre braccia fino alla punta delle vostre mani sentite come scorre lungo la vostra colonna vertebrale lungo il vostro collo lungo il vostro collo nella vostro collo nella vostra testa e rilassa tutti i tratti nel vostro viso rilassa le vostre palpebre i vostri occhi e scende come un ruscello lungo il vostro naso e le vostre guance scorre piano piano nella gola passando dalla bocca ed è un'energia di amore di luce che illumina tutto il vostro corpo lasciate che sia lasciate scorrere questa energia di amore con la voce con la voce che la face si rilassa la voce con la voce che la face Grazie a tutti. Tutto il vostro corpo adesso è luce all'interno e anche all'esterno. Lasciate che questa luce illumini il vostro spazio. Ok, questa luce si allarga, si espande. Con altre luci perché siamo con essi, uno con l'altro. E la terra è connessa con il cielo e il cielo con la terra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forse sentirete un leggero formiculino nelle mani e nei piedi. Lasciate entrare questa sensazione di benessere dentro il vostro cuore. Assaporate questo momento. E fatelo entrare in ogni cellula del vostro corpo. Se volete potete continuare... rimanere a rimanere in questo momento, questa sensazione di pienezza. oppure ritornare al vostro corpo fisico e muovere dolcemente le mani e i piedi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.